Il caso degli affidamenti a opera maestra e stella polare agosto di indagini e querele Fatale malore sulla spiaggia di Pesaro muore un turista dalla Toscana Partiti lavori per ricostruire il campo da calcio di Vismara distrutto dall'alluvione Il 10 agosto candele sotto le stelle torna a illuminare le note di Pesaro, Gabice e Gradara Sport, WL e Vis scaldano i motori in vista della nuova stagione Ben ritrovati al nostro telegiornale, oggi è lunedì 5 agosto, agosto un mese in cui si intensificano le indagini sul caso degli affidamenti diretti del comune di Pesaro per oltre 550 mila euro alle associazioni culturali opera maestra e stella polare Sul piano giudiziario è partita l'indagine congiunta di Procura della Repubblica e Guardia di Finanza per fare chiarezza su una vicenda che per il momento non ha né indagati né ipotesi di reato Sul piano politico è partito invece il lavoro della Commissione Controllo Atti e Garanzia presieduta da Marco Lanzi che per la prossima seduta dell'8 agosto riceverà la relazione dell'ufficio Gara e i contratti in cui si farà ulteriore luce sulle procedure e determine d'affidamento alle due associazioni dal 2020 ad oggi E su questo caso spuntano anche le prime denunce come la querela per diffamazione annunciata dall'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci nei confronti dell'ex candidata sindaco Pia Perricci che ai nostri microfoni ha derubricato l'episodio come un'intimidazione che non fermerà la sua ricerca della verità Ascoltiamola Secondo me qualcuno deve leggere il contenuto del termine diffamazione sulla base di quello che è il codice penale Anche perché io nel mio post su Facebook non ho scritto nulla di così eclatante Ho semplicemente scritto che Ricci si è sempre battuto e lo testimoniano tutte le sue interviste per l'abolizione del reato di abuso d'ufficio ed è tutt'oggi, oggi lui gode dell'immunità parlamentare Quindi qual è la diffamazione? Dopodiché tutti gli eventi che stanno travolgendo Pesaro in questi giorni Sono situazioni che si sono create sotto la sua legislatura Lui era il sindaco, non può sempre dire non lo so, non ricordo Ha negato peraltro di conoscere alcune persone e poi prontamente sono state pubblicate le fotografie di lui in compagnia di queste persone Quindi qualcuno dovrà dare delle spiegazioni L'amministrazione pesarese è sempre stata molto poco trasparente È stata una mia battaglia durante tutta quella che era la campagna elettorale E sinceramente sono molto contenta che probabilmente sto arrivando di più ora ai cittadini che prima Perché prima i cittadini pensavano che io lo facessi per un interesse politico Perché magari puntavo ad una poltrona, cosa assolutamente non vera Per il semplice motivo che io ho un'attività lavorativa da oltre 28 anni E non intendo smettere di fare l'avvocato Il mio è un senso di giustizia Il mio è un senso di moralità Io ho sempre educato i miei figli alla moralità, alla giustizia e alla trasparenza E in questi giorni tantissimi cittadini mi stanno contattando per darmi informazioni Perché io non è che la mattina mi alzo e riesco a scoprire le cose C'è gente che mi dà delle informazioni Tantissimi cittadini mi chiedono di rimanere anonimi E io rispetterò il loro volere Tantissimi ci vogliono mettere la faccia Sto avendo informazioni sull'operato di opera maestra E ancora prima di un'altra associazione facente capo sempre agli stessi personaggi Per la quale sono notizie freschissime avute ieri Quindi io credo che l'ex sindaco, l'ex primo cittadino Proprio perché è europarlamentare Invece che denunciare me per diffamazione Dovrebbe impiegare i suoi legali e tutte le sue energie A ricordare tutto quello che è successo in dieci anni E soprattutto mettendosi a disposizione della magistratura Per fare chiarezza in questa città Io credo che questo sia l'unico modo Che può avere un primo cittadino Per dimostrare non soltanto la sua totale stranità ai fatti Attenzione io non sto dicendo che lui è colpevole Io sto dicendo che lui quale primo cittadino Ahimè è responsabile di quello che ha fatto una parte della giunta E di quello che ha fatto i dirigenti Perché i dirigenti da chi sono stati nominati Quindi non si può dire non so Proprio per questo lui dovrebbe aiutare la magistratura E tutti coloro che stanno cercando di fare chiarezza A fare chiarezza Ed ora cambiamo argomento A presto una turista toscana di 74 anni Ospite dell'hotel Majestica Pesaro E morta ieri mattina in spiaggia In seguito ad un malore Mentre stava facendo il bagno ai bagni Ciro In prossimità della foce del Genica Immediato l'intervento del bagnino di salvataggio Di fronte alla bagnante collassata in acqua In seguito a un mancamento Condotta Riva Alla donna sono state effettuate manovre di soccorso Del personale del 118 E della guardia costiera Che non hanno però potuto far altro Che constatare il decesso Continuiamo a parlare di cronaca Perché un 33enne Ravennate È stato arrestato Per spaccio di stupefacenti Dalla polizia di Pesaro Dopo un controllo susseguente A posto di blocco In via della liberazione L'uomo era a bordo dell'auto Assieme a un 39enne Ed entrambi risultavano pregiudicati Sono stati controllati Tramite una perquisizione Che ha consentito di rinvenire 6 grammi di cocaina 26 pastiche di ecstasi E piccole quantità di asci Trovate fra il vano del bagagliaio E l'interno della zona utilizzata Per il cablaggio dei fari e dei fusibili Il 33enne conducente del veicolo È stato arrestato Per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti Il 39enne invece È stato segnalato alla prefettura Come assuntore Lasciamo la cronaca E parliamo di sanità Quella di Urbino Dove il comune Si confronta con la regione Sul futuro dei servizi ospedalieri Dell'entroterra Ne abbiamo parlato Con il sindaco appunto di Urbino Maurizio Gambini Chiaramente questa audizione Del presidente Acquaroli De Salta Martini Dell'assessore della sanità E anche del direttore generale Della nostra provincia Che si è insediato tre mesi fa E sta iniziando a lavorare Credo che Più che altro sia un'esposizione Da parte loro Di quello che sta succedendo E le domande nostre Sulle criticità Perché le cose che funzionano Non abbiamo bisogno di rilevarlo Abbiamo bisogno di dire Quello che non va E che va migliorato Quindi è un'occasione importante Per tutti i consiglieri comunali Quindi per tutti i cittadini Per capire Quale sarà il progetto futuro L'applicazione di questa nuova Riforma sanitaria E l'atto aziendale Che ancora deve essere fatto Da parte dell'Ast Quindi ecco Un giorno importante Ma chiaramente noi Vorremmo stare vicino A questo tema Come abbiamo sempre fatto Ma adesso È arrivato il momento di agire E quindi su questo Mi sono trattenuto Anche la Appunto la delega La sanità Perché comunque il sindaco Deve dare garanzia Ai propri cittadini Sul tema della salute Prima lo faceva Elisabetta Foschi Continuerà a farlo Insieme a me Perché gli ho chiesto Comunque di collaborare Perché ha fatto un ottimo lavoro Negli anni passati Ma questo per dare una risposta Non solo ai cittadini di Urbino Ma per parlare Della sanità Del nostro entroterra Ma anche di quella della costa Perché per noi Avere un'eccellenza Pesaro O avere la Fano È importantissimo L'importante è che Ognuno faccia il suo E l'emergenza Urgenza Sia garantita A tutti i cittadini Le visite Tutto quello che riguarda L'assistenza Al cittadino A partire Quello che ho detto All'assessore Saltamartini A partire Dai medici di base Perché la sanità Parte soprattutto Con una buona organizzazione E dei medici di base E anche a Pesaro Così come in gran parte Dell'Italia Continuano i flash mob Che invocano Il cessate Il fuoco Sui fronti di guerra Che si stanno Accavallando In questo 2024 Vediamo il servizio Continuano anche a Pesaro Come nel resto d'Italia I flash mob Che chiedono Un cessate del fuoco Sui tanti inquietanti Fronti di guerra Che si stanno Accavallando In questo 2024 L'ultimo venerdì sera In Piazza del Popolo Dove sulle note di Mozart Alcune manifestanti Si sono sdraiate a terra Mentre altre Le hanno coperte Con delle lenzuola bianche Alle loro spalle Sollevate all'unisono Dei cartoncini Che componevano la frase Cessate il fuoco ora Le donne in cammino Per la pace Nascono all'indomani Del 7 ottobre 2023 Quando Hamas Perpetra un atto Di grande Un'azione Di grandissima violenza Contro Israele All'indomani Di quell'episodio Alcune donne brisciane Hanno pensato Di dare vita Al movimento Ed è stato poi Il movimento Ha raggiunto Più di 150 comuni In Italia Quindi Tantissime donne Si sono sentite Obbligate A un gesto Di sensibilizzazione Alla pace Per dire No Alla guerra Ai massacri Agli atti di violenza E' veramente Per raggiungere Per raggiungere Un momento In cui La guerra Non sarà più Percepita Come una possibile Modalità Di risoluzione Dei conflitti Sappiamo Sappiamo che è un obiettivo Molto lontano Ma è proprio per questo Che tutti noi Intendiamo Dare il nostro contributo Attraverso il nostro silenzio Attraverso i nostri flash mob In modo tale Che ovunque Arrivi questo messaggio Di no Alla violenza Dopo la devastazione Prodotta dall'evento Alluvionale Di maggio Del 2023 Sono iniziati I lavori Per la riqualificazione Straordinaria Dell'impianto sportivo Di Vismara E la sua messa In sicurezza Attraverso la pulitura E la sistemazione Del fosso Della Badia Il sindaco Biancani E gli assessori Pozzi E della Dora Hanno effettuato Oggi un sopralluogo Per un intervento Da 700 mila euro Che conta Di restituire campo E strutture Alla società In questo autunno Contestualmente Sono stati stanziati 40 mila euro Per la pulizia E l'innalzamento Del vicino fosso Della Badia Per mettere al riparo Dal rischio Di esondazione E parliamo anche Di un nuovo Impianto sportivo Quello appena inaugurato Nel comune Di Tavuglia Che vi mostriamo Proprio in questo Prossimo servizio Inaugurata La nuova pista polivalente Nella frazione Di Belvedere Fogliense Lavori Che l'amministrazione Comunale di Tavuglia Aveva avviato Alla fine del 2023 E che si completano In questa seconda Parte d'estate Per regalare Ai residenti Della frazione Specialmente Giovanissimi Una struttura Di nuova generazione Per la pratica Di diversi sport Affiancata al bocciodromo Realizzato nel 2019 Uno spazio Inclusivo Dove ci sia la possibilità In maniera del tutto Gratuita Di incontrarsi Non vi nego Che abbiamo chiuso Quest'estate Giustamente Per fare i lavori E non so Quante richieste Abbiamo avuto Ma quando finiti i lavori Quando finiti i lavori Proprio perché C'era l'esigenza E la voglia Insomma Di stare insieme E quindi per noi È veramente importante Avere Ripeto In ogni frazione Perché come sapete Tavuglia è molto Grande Quindi In ogni punto Ci deve essere Questo luogo Di aggregazione È stato fatto 4 cm E mezzo Di catrane E poi è stata Data la resina A chiudere le buche Prima Dove io ho allagato tutto Per vedere Dove c'erano i difetti E poi sono state date Sei mani Di resina Su Qui dopo è stata fatta La recensione Le porte Le abbiamo fatte nuove Anno scorso Quindi abbiamo rimesso su Quelle che avevamo Invece Per i canestri Le abbiamo fatti nuovi Sono proprio A norma di legge In più è stato fatto Tutto L'illuminazione a led Che questa è una cosa Molto importante Di notte È un spettacolo Veramente Per vedere È sempre un punto Un punto importante Del nostro territorio E quindi Ogni volta Diciamo Che c'è da intervenire Su questo territorio Siamo sempre A disposizione Poi qui Abbiamo gente Che collabora Diciamo Anche con l'amministrazione Quindi Anche per noi Il lavoro È reso molto più facile Rispetto magari All'altra parte Del territorio Dove non c'è collaborazione Qui comunque Quando c'è da fare qualcosa I cittadini Danno sempre Un aiuto Per poter realizzare Quello che Ci chiedono E si avvicina Uno degli eventi Più iconici Per la città di Pesaro Così come Quella di Gabice Ma anche di Gradara Stiamo parlando Di candele Sotto le stelle Che come sempre Torna il 10 agosto Un evento Che ha una lunga storia Ormai siamo L'unicesima edizione E si cala In un anno straordinario Che è quello Di Pesaro Capitale Italiano della Cultura Quindi con un'attenzione Ancora maggiore Soprattutto Nel mese di agosto Sugli eventi Che tengono insieme Turismo Ma anche cittadini La forza di questo evento È stato Quello di avere Una forte appeal turistico Ma il turista Trova le famiglie Trova le compagnie Trova i pesaresi I gabicesi I gradaresi Che festeggiano Questa serata Semplice Ma unica Per la sua Bellezza E semplicità Quindi con Gradare Gabice Si rinnova Questa strategia Di Riviera E quest'anno Anche la parte artistica Ha voluto mandare Un messaggio importante Con diverse iniziative Di vari comuni In particolar modo Abbiamo scelto Di continuare Il rapporto Con l'orchestra Casa Dei In particolar modo Quest'anno Che sono i 70 anni Di Romagna e Mia Che è un vero Inno nazionale Popolare Legato al ballo Legato alla cultura Legato alla tradizione E che è stato protagonista Non a caso Anche dell'ultimo festival Festival di San Rebo Quindi il 10 agosto Non solo Chilometri di festa Chilometri di cena In cui decine di migliaia Di persone Si ritroveranno Per una serata unica Vestiti in bianco Ma anche A seguire In Piazzale della Libertà Che è un luogo Che negli anni Abbiamo riscoperto Dedicato al ballo L'incontro La socialità L'incontro tra i turisti E i cittadini L'opportunità Del gran ballo Così è stata chiamata La serata Con l'orchestra Con l'orchestra Casa Dei Siamo contenti Di continuare Questo bel rapporto Con Pesaro Che è iniziato Un paio di anni fa Abbiamo fatto bellissime cose E quest'anno Ci riproponiamo Di fare una serata Eccezionale In questa Così Festa Bellissima E noi ci saremo In piazza Per far ballare la gente Quindi quest'anno Con i 70 anni di Romagna Mia Il tema sarà proprio il ballo Io ho ribattezzato Questa festa Dentro la festa Gran ballo d'estate Perché vogliamo far ballare Tutti i turisti Tutti gli amici di Pesaro Tutti i pesalesi Chiunque vorrà venire Sarà una grande festa Siamo più di 20 quintali di candela Quindi migliaia e migliaia Di fiammelle Un migliaio di pali in legno Che decorreranno Tutto il lungomare Quindi questi 10 chilometri Di spiagge Che illumineranno Questa notte Di queste candele Sotto le stelle Come tutti gli anni Sarà un evento importante Per Pesaro Ma anche per le marche Oltretutto C'è il classico dress code bianco Anche quest'anno Da rispettare Speriamo sempre Nella buona riuscita Grazie anche al tempo E al vento Perché il vento Purtroppo con le candele Non va molto d'accordo Si avvia alla conclusione Mira al teatro D'estate Quinta rassegna Nell'anfiteatro Del parco Miralfiore Nata dalla collaborazione Tra Comune e Amat Giovedì 8 agosto Giovedì 8 agosto L'ultimo appuntamento Sarà con Sound Park Fest Una festa Dalle sonorità Travolgenti Realizzata in collaborazione Con Black Marmalade Records E Glocal Sound Ad esibirsi saranno Tre band Gli I Hate My Village Uno dei più apprezzati Gruppi della scena Indipendente italiana La band turca La La Lar E il gruppo Underground Bolognese Corobu E in un altro Suggestivo Anfiteatro Quello di Villa Berlonia Candelara Mercoledì 7 agosto Alle ore 21 Si terrà invece Il concerto Io non ho paura Fiorella e le donne Che amano Una serata di tributo Ai più grandi successi Di Fiorella Mannoia Realizzato dall'associazione Culturale L'Anfora Attraverso la voce Della cantante Solista Angela Ciavarella E le voci recitanti Degli attori Roberta Pandolfi E Giuseppe Esposto Chiudiamo questa edizione Del nostro telegiornale Con alcune notizie Di sport In modo particolare La VL Che comincerà Il suo ritiro Il 18 agosto Per un campionato Di A2 Che comincerà Esattamente Il 29 settembre Una stagione Da affrontare Con ambizioni massime Come rivelato Da società E staff tecnico Durante La presentazione Della campagna Abbonamenti K2 intitolata Marco Piccoli E posti canalizzati Per gli under 30 Nei settori K1 e K3 La campagna Abbonamenti Inizierà fra il 26 agosto E il 6 settembre Con la prelazione Dei vecchi abbonati E la contestuale Vendita di posti liberi Vendita poi libera Dal 9 settembre Il momento Il momento della campagna Abbonamenti E' importante Appunto Perché è un po' Il termometro Che misura Le aspettative Che hanno I tifosi Gli appassionati Per questa nuova stagione Che andiamo ad affrontare Le aspettative Per noi Da parte nostra Sono Per me personalmente Sono molto alte Abbiamo fatto Secondo noi Un bel lavoro A livello di Costruzione Della squadra Che è stato Un lavoro duro Impegnativo Ma pensiamo Di essere riusciti A realizzare Un roster Che può Lottare Per le prime posizioni Insomma Non mi piace Nascondermi dietro un dito Per cui le cose Le dico Apertamente Insomma E' stato fatto Un grosso sforzo Da parte di tutti E quindi Pensiamo anche Che appunto Anche il tifoso Deba apprezzare Questo sforzo E riversarsi Al palazzetto Con entusiasmo Sono il primo A beneficiare Di questo affetto Di questo calore Che il pubblico ha dato Più che altro Una precisazione Ecco Io credo che Ho visto per esempio Quello che è successo A Cantù Bisogna avere la consapevolezza Che si fa la Serie A2 E questo Non è così scontato Perché è uno Abituato per tanti anni A vedere comunque Squadre Partite di un livello Molto alto Ci sono in A2 Dove l'importante Fondamentalmente E si giocare bene Ma L'importante è fare risultato Ancora di più Con questo campionato Dove la prima passa Passa di diritto E quindi Magari ci saranno partite Dove si vedrà Magari meno spettacolo Ma più agonismo Più forza E magari Una qualità Un po' più bassa E questo È importante Che ci sia Questa consapevolezza Perché poi È un campionato lungo È un campionato Che ci darà Tante trasferte Consecutive Come tante partite In case Consecutive Arriveranno Dei momenti In cui Ci sarà Un po' di crisi E lì bisogna essere Bravi E essere compatti La squadra Partirà in ritiro Il 18 agosto Per una Serie A2 Che comincerà Col debutto Di Nardò Il 29 settembre E la prima Alla vitri Il 2 ottobre Con Vigevano Per dirigenza E staff tecnico Una VL Che merita fiducia Che ha tutte le carte in regola Per puntare All'obiettivo massimo Con la consapevolezza Di essere In un nutrito Lotto di pretendenti Abbiamo preso Giocatori Importanti Giocatori che Hanno dato Una disponibilità Nel venire a Pesero Forte Non tutti Siamo riusciti A prendere Quelli che volevamo Però Siamo contenti Di quelli che abbiamo E siamo contenti A loro grande disponibilità E' chiaro che Il gruppo italiano E' un gruppo importante Perché In A2 Sono 8 su 10 Come è molto importante Vedere l'approccio E la base Che daranno I nostri due americani E speriamo Possano fare la differenza Quest'anno Ce ne sono parecchie Di squadre Blasionate Che cercano Di risalire Prima possibile In A1 Il coach Chiaramente Allargato un po' Io dicevo prima 4-5 L'unedice 8 Va bene E' nel gioco Delle parti Dai Mettiamolo così Comincerà invece Un mese prima Il campionato Della Vispesaro Che inaugurerà Il suo settimo anno Consecutivo In serie C Il prossimo 26 agosto Vis Che è reduce Della prima apparizione Della stagione Al Benelli Davanti ai propri tifosi Dopo l'amichevole Giocata col Fossombrone Vediamo Conclusi i 20 giorni Di ritiro a Cingoli La Vispesaro Ha iniziato La fase 2 Della sua preparazione Precampionato Al Benelli Dove sabato Ha fatto la prima apparizione Davanti ai propri tifosi Nell'amichevole Vinta col Fossombrone Per 4-1 Contro i vicini di casa Di una categoria inferiore La Vis disputa Una buona gara Nonostante i carichi Di lavoro del periodo E al netto Di un fosso In ritardo Di preparazione A mettersi in luce È stato soprattutto Molina Con una doppietta Nel primo tempo Concluso sul 3-0 Grazie anche al primo gol Bianco-Rosso Del difensore Nuovoacquisto Palomba Nella ripresa Il 4-0 Di Nicastro Su rigore Poi il 4-1 Forse in pronese Di Torri Abbiamo fatto delle cose buone Più nel primo Che nel secondo tempo Ma va bene Mi interessava vedere Certe cose Mi interessava mettere Minuti nelle gambe Insomma in vista Poi della gara Che abbiamo Contro l'Arezzo L'11 Insomma Ho visto Ripeto Delle cose importanti Su quello che abbiamo lavorato La condizione Logicamente deve Migliorare Come devono migliorare Tante altre cose Dobbiamo lavorare Siamo all'inizio Abbiamo cambiato tanto Ma Ho visto cose Importanti Da parte Dei ragazzi Soprattutto sotto L'aspetto Dell'atteggiamento Ora il primo test ufficiale Di Coppa Italia Con l'Arezzo Prima dello star Di campionato Del 26 agosto In Sardegna Con la Torres Sia I Diciamo I nuovi Che chi già stava qua Si è presentato Al ritiro bene Abbiamo fatto Un ritiro Intenso Abbiamo fatto Due amichevoli Di prestigio Importanti Dove abbiamo Viaggiato E hanno risposto Sempre bene Sia alle partite Che agli allenamenti Che abbiamo fatto Le riunioni Che abbiamo fatto Vedo un gruppo sano Serio Che cercherà Come ho detto All'inizio dell'anno Di dare fastidio A molte squadre Insomma Con l'obiettivo Che ci dobbiamo Che ci siamo fissati Che è quello Di soffrire Meno rispetto All'anno scorso Sono felice Della squadra Che abbiamo Ringrazio Il direttore Che in pochissimo Tempo Mi ha fatto avere Una squadra Pronta Perché poi alla fine Abbiamo fatto Solo I due ritocchi Del portiere Di Pexoto Di Antor Quindi Sono molto soddisfatto Per quello Ringrazio Il presidente E la società Per lo sforzo Fatto Perché comunque Mi hanno accontentato In tutto Non è da tutti Abbiamo un grande Presidente Abbiamo una grande Società Ve lo assicuro Eccoci arrivati Alla fine Del nostro Telegiornale Ma restate con noi Perché tra pochissimo Vedremo l'approfondimento Dedicato a Pesaro Capitale della Cultura Questa sera Parleremo di Cantiano Perché è proprio Cantiano Protagonista Di questa settimana Di Capitale Appunto Della Cultura Quindi vi aspettiamo Tra pochissimo E poi In prima serata Il nostro appuntamento Del lunedì Conce capo Obiettivo salute Questa sera Parleremo della risonanza Magnetica Multiparametrica E lo faremo Con il medico chirurgo Specialista in radiologia Roberto Esposito E subito dopo Invece vi andiamo A raccontare Le novità Della nuova edizione Di Birra d'Augusto Che si terrà a Fano Dal 10 al 14 agosto Avete tempo di andarci Noi intanto Ve la raccontiamo In questo nostro Approfondimento E poi domani Torna e continua Come sempre La nostra rassegna stampa La vostra Rassegna stampa Io vi aspetto Con molto piacere Domani alle 7.20 E come sempre Vi ringrazio Per essere stati In compagnia Di Rossini TV Vi ricordo Il numero Delle nostre Segnalazioni 370-366-7210 E il numero Che attraverso La messaggistica Di Whatsapp Potete utilizzare Per inviare Foto o video O semplicemente Scriverci delle cose Che volete denunciare Grazie a tutti E buona serata